Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo come ospite in studio il Presidente dell'Unione Montana Felterina, Federico Dallatorre. Buonasera. Buonasera. Questo è un periodo in cui il mandato in Unione Montana Felterina attende gli esiti delle elezioni. Sì, sto concludendo il secondo mandato, da statuto non potrò più essere rieletto, anche se il primo mandato è stato brevissimo, è stato di due anni, ma era così perché avevamo fatto il passaggio da comunità montana a Unione Montana. Comunque sono stati sei anni impegnativi, sei anni in cui abbiamo trasformato la comunità montana in Unione Montana, con tutti gli oneri e onori. Dobbiamo dire che il di più che ho potuto, al di là dei problemi di tutti i giorni, ma ho apprezzato enti, anche molto più grossi di noi, che hanno chiesto la nostra collaborazione, quindi i nostri servizi associati, vuol dire che anche fuori del territorio dell'Unione Montana sono quotati, e questo è sicuramente un orgoglio, e ne va un plauso ai loro responsabili e anche ai dipendenti, perché anche il semplice dipendente fa parte di questa grande famiglia dell'Unione Montana Felterina. Il di più poi che è sorto in questi sei anni è stato l'aver coordinato la prima tranche di area vasta del Fondo Comune di Confine, che sappiamo che nel Feltrino, tra il 2015 e il 2016, abbiamo coordinato politicamente 43 milioni di euro, che non sono pochi, e di cui sono andati a convenzionamento, quindi a buon fine in questi sei anni, in questi cinque anni, ne sono andati a convenzionamento 41, per una serie di problematiche, solo un progetto da 2 milioni non è andato a convenzionamento, è stato trasferito la prossima programmazione. Oltre alla questione del coordinamento politico di questi fondi, che ha dato, a mio parere, pur nel nostro apprendistato, perché guardate, tutti pensano che i comuni di confine sono diventati ricchi. Sì, è vero che abbiamo risorse in più, e per legge anche quelli di seconda fascia nella programmazione di area vasta possono programmare, però è anche vero che la fase di rodaggio non è ancora completata del tutto. Ci abbiamo messo molto tempo a farlo partire, i primi anni, ricordiamoci le problematiche, e poi anche con il cambio, quindi da solo comuni di confine a area vasta, per una parte, anche qui, insomma, non è facile, siamo ancora in rodaggio, per capire. Comunque sono risorse importanti che per il Feltrino hanno voluto dire miglioramento della sanità, e la sanità è di tutti, non è solo di noi comuni di confine, è miglioramento della rete viaria, e questo ne va non solo della parte del Feltrino occidentale, ma va del Primiero, dove oltre ai 10.000 residenti passa un milione di persone all'anno sull'SR50. Ecco, per cui voglio dire, sono turisti che, vabbè, uno dice sì, vanno in Primiero. Sì, attenzione, però, perché io con l'occhio vedo, si fermano sui nostri locali alla mattina a fare colazione, quindi spendono da noi, la sanità la spendono da noi, a fare acquisti ai supermercati vengono da noi, a fare rifornimento vengono da noi, quindi è un milione di turisti che, anche se va a dormire a Fieri di Primiero, usa il Feltrino, ecco, non buttiamo tutto a male, anzi, sono tutte risorse che potremmo anche aumentare e portare a casa, quelle là dell'economia turistica del Primiero. Nonché interventi sulla cultura che non ci saremmo mai aspettati, perché le risorse prima non ci avevano, o sul potenziamento dell'ospitalità diffusa, quindi del turismo, quindi, insomma, carne ce n'è. Da questo punto di vista politico, c'è anche poi, da un punto di vista anche di ufficio, abbiamo, ci siamo posti il fine di creare un ufficio fondi di confine, che serviva, che sarebbe servito sia per i progetti dei comuni, come soggetto capofiglia, sia anche per dar una mano a comuni extra Unione Montana Feltrina. Non è da poco che abbiamo firmato la convenzione per il palaghiaccio di Alleghe, per dar una mano al comune di Alleghe alla realizzazione dei interventi sul palaghiaccio. Però, anche qui, l'allungamento dato dalla pandemia e adesso l'aumento spropositato dei prezzi nel giro di pochi mesi, senza aver aggiornato i preziari, sta diventando un problema. Ci sono gare di fondi di confine che vanno deserte, ci sono opere che durano troppo e i soldi che ci sono dati per il personale non bastano. Un anno e mezzo di pandemia che ha bloccato gli uffici, i ritardi nelle decisioni politiche sicuramente, problematiche interne, tutto questo e non ultimo l'aumento spropositato dei prezzi ci sta creando non seri problemi. Io credo che nella prossima programmazione dovremmo tenere presente di queste cose qui. Chi è che si aspettava un aumento del 30% su certe materie prime? Fa sballare i quadri con obbici? Dite non viene nessuno a fare gare. L'ultima gara, quella di Forte Leone, è andata a deserta. La gara per la casa del custode del museo di Seravella, la prima gara è andata a deserta, la seconda abbiamo trovato, dico miracolosamente, una dita. Ma sì, il ribasso è pari a zero, diciamo, quasi vicino a zero, però almeno abbiamo trovato una dita e la ringraziamo che è venuta, che verrà a farci lavori da qua a settembre, se no vi è in giù il tetto. Ci troviamo in queste situazioni, avere risorse poi per decisioni, perché penso che le associazioni di categoria lo possano dire loro prima che noi sindaci, certe decisioni nazionali, vedi il super bonus, ha stravolto i preziari, ma soprattutto ha stravolto anche il lavoro degli enti locali, perché noi siamo intasati di richieste di accesso agli atti che ha veramente mandato in tilto ufficio urbanistica dei comuni. Non ultimo, il nostro ufficio associato urbanistica è in sofferenza mostruosa, era un embrione che avevamo provato con la regione, la monsovramonte Fonzaso a Sier, ma siamo in moltissima sofferenza, non lo so come andremo fuori nei mesi autunnali, vediamo, insomma. Però insomma, quello che è da rimarcare, e ho visto in questi sei anni invece, è un maggior coinvolgimento invece per quanto riguarda l'ordinario. Cioè l'Unione Montana Feltrina ha otto dipendenti istituzionali, tutti gli altri li ha nella società partecipata Feltrina Servizi. Sì, avremmo bisogno di più risorse se vogliamo dare un servizio stabile, perché le persone che magari sono, magari a dieci anni che sono lì, in questo momento in cui si sono riaperti i bandi pubblici, cercano un posto a tempo indeterminato. Allora, un conto è un posto a tempo indeterminato in un ente locale, un conto è un posto a tempo indeterminato in una società partecipata. Io penso che uno se ne va, giustamente, se ne va in un ente locale. Scelgono la stabilità e però voi perdete figure di esperienza. Noi perdiamo qualità. E ripartire, sì. Tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, ma ci vuole tempo per qualificare una persona, non è che da sera a mattina uno si qualifichi e poi trovarli. Non riusciamo a trovare tecnici neanche a morire. È come la questione dei medici. Scelte passate che si stanno adesso diventando problemi, perché non trovano più medici. Ma le scelte fatte dieci, quindici anni fa di fare università chiuse, di fare la selezione, eccetera, ha portato a questo. Ci mancherebbe che un medico sia l'ottimo, deve essere l'ottimo. Però bisogna guardare in prospettiva. Abbiamo bisogno di sanitarie. Così come abbiamo bisogno di dipendenti pubblici, dopo uno può dire che non fanno niente. O ragazzi, guardate che lo Stato, la Regione, il Comune, l'Unione Montana, va avanti se ci sono i dipendenti. Se no, tutto si ferma. Inutile. Ci sarà anche la mela marcia, ci mancherebbe. C'è per tutto, c'è anche nell'azienda privata. E portate avanti, però nonostante tutte queste difficoltà o comunque insomma imprevisti, siete riusciti a portare avanti tutta una serie di progetti, in particolar modo ne abbiamo visti insomma anche di recente alcuni nel turismo. Io penso che l'Unione Montana-Feltrina in questi ultimi anni non è che sia tutto oro ciò che luccica, ci mancherebbe. C'è un retro che sicuramente si fa fatica a trovare, ma bisogna trovare un equilibrio. E noi lì nel Feltrino, insomma, anche con fatica, lo abbiamo trovato per quanto riguarda la tassa turistica. Non è da tutti, cioè tutti noi 13 comuni, abbiamo deciso facciamo una tassa turistica uguale per tutti, con lo stesso regolamento. Sarà anche da affinare, ma intanto siamo partiti tutti insieme. Abbiamo un ufficio che ce lo gestisce, le risorse che entrano, che non avremmo mai pensato che entrassero tante risorse così. Cioè vuol dire che nel Feltrino gira gente, non c'è solo Cortina nel Belunese. Non abbiamo i numeri di Cortina, ma gira gente anche nel Feltrino. Siamo riusciti, con l'ingresso annuale della tassa, riusciamo a tenere aperto l'ufficio turistico centralizzato, quello di Feltre. E non possiamo esimersi da dire la gente non arriva a Sovramonte, per primo arriva a Feltre, dove arriva la stazione. È inutile che... È il fulcro. Secondo, riusciamo a tenersi una quota per fare dei progetti insieme, che vedi quest'anno, anche per ripartire, il Dolomiti Arena, questi concerti all'Aurora. Io ho partecipato al primo che abbiamo fatto sul Monte Avena, è stato un successone. È stato un successone, ma anche un'emozione incredibile, poi dei colori splendidi alla mattina. E non era serenissimo, però veramente è un bello. E devo dirle la verità che le colazioni erano di qualità. le colazioni offerte erano di qualità. Potevamo fare invidia al Tirolo. E senza nessuna, lo dico, veramente preparati con qualità. E terzo, i comuni possono usufruire di parte di questa tassa anche per progetti proprio loro locali. Non so se il Comune vuole stamparsi una piccola brochure o una piccola cartina, possono farlo. Io penso che è un esempio, un intero territorio lavora in questa direzione. dobbiamo fare ancora tanta scuola, è vero, siamo all'inizio come apprendisti turistici perché il Feltrino ha sempre, abbiamo avuto il manifatturiero, prima c'era l'agricoltura, il turismo diventa adesso materia da evolvere, ecco, nel Feltrino. È tutto un campo da esplorare. E poi dipenderà sempre anche insomma dalle risorse a disposizione. Le risorse guarda stanno per ripartire la seconda programmazione di area vasta. Qui dipende dai sindaci di prima e seconda faccia per legge decidere dove investire queste risorse. Se vogliamo dare un altro sblocco all'economia turistica lì dobbiamo andare. E non è, io dico il turismo non è chi sa che il turismo è cultura è gastronomia ma è anche viabilità è sanità. Guardate che il turista non viene perché poi si fa male e trova un ospedale a terzo mondo. Ecco, chiariamoci perché sembra che la sanità sia l'ultima. Non competi ai comuni è vero ma lo possiamo fare insieme alla regione. Ci mettiamo intorno a un tavolo cosa serve regione? Ci aiutiamo facciamo due terzi un terzo come cofinanziamento l'ospedale di Lamont è un esempio un po' sproporzionato nei conti perché noi comuni mettiamo 4 milioni e la regione mette un milione però è un ospedale di eccellenza nella regione del Veneto quindi se ci teniamo anche le nostre eccellenze insomma un occhio di riguardo e per quanto riguarda questi ultimi 6-7 anni a seconda di come facciamo il conto insomma vi sarà capitato anche sicuramente di trovare poi dei punti di disaccordo no? Guarda io ho notato che al di là dei problemi quotidiani che ha un ente di secondo grado come è l'Unione Montana Feltrina che alla fine non ha il cittadino che chiede di venire c'è il buco da coprire c'è il tombino da svuotare eccetera ma sono problemi diversi ecco credo ma vedo le decisioni politiche l'Unione Montana dipendono dalla regione le decisioni politiche devono andare in porto io sono 6 anni che sento vado alle riunioni generali dell'Unione Montana e sento dobbiamo chiudere quelle che non fanno servizi sono 6 anni io non ne ho visto chiusa neanche una allora cioè e dopo però le unioni prendono gli stessi soldi come fondo ordinario ragazzi così non andiamo a nessuna parte nel senso che l'Unione Montana fa un lavoro enorme e prende tanto quanto altre che hanno un dipendente e mezzo sì che senso ha allora ci stiamo sbudellando per essere un esempio quando alla fine di altri e tanto vale sì allora se un'Unione Montana non ha senso che esista bisogna avere il coraggio di staccare la spina basta si chiude basta faranno i comuni in quella zona ma non possiamo tenere in piedi i carrozzoni perché poi cosa succede guardiamo a Roma e guardiamo la nazione che tiene in piedi i carrozzoni e poi nel nostro piccolo non riusciamo a staccare la spina magari un paio di Unione Montane sì io questo guarda in questi sei anni questo mi rammarico un po' perché le sfide le conosciamo tutti guardate le Unioni Montane hanno un universo davanti bisognerebbe tornare ancora di più però come Unioni Montane alla valorizzazione della montagna cioè strade silvopastorali investimenti dico pulizia di sentieri strade silvopastorali questo competerebbe alle Unioni Montane come coordinamento tra comuni però poi cadiamo su queste bucce di banana non siamo riusciti in sei anni a chiuderne neanche una ma se tutte funzionassero benissimo io le terrei subito in piedi porca miseria una condipendente mezzo ditemi se funziona fatemi benissimo io io le licenzio sette e mi ritengo uno solo vuol dire che funziona Unioni Montane con uno solo ma dai mo eh con questo con questo argomento e con questo insomma invito anche un po' alla riflessione sull'operatività delle Unioni Montane chiudiamo il nostro tempo a disposizione e ringraziamo quindi il Presidente dell'Unione Montana Feltrina Federico Dallatorre grazie buona serata buona continuazione grazie